Avere una buona qualità video è importante, ma è altrettanto importante avere anche una buona qualità audio. Ecco che oggi andiamo a vedere come migliorare il microfono e farlo suonare in modo più professionale. Popolo di nerd, miei iscritti tutti e popolo di YouTube, benvenuti o bentornati su Master J Tricks, io sono Master J, continuiamo signori con il filone della gestione audio in OBS Studio. Oggi andiamo a vedere come far suonare qualsiasi microfono in maniera più professionale. Ovviamente ragazzi, gran parte la fa anche la qualità del mostro di microfono, però è possibile ragazzi far suonare il microfono anche di qualità un pochino inferiore, in maniera un po' più professionale e corposa. Non abbiamo bisogno di particolari plug-in o particolari estensioni per OBS per utilizzare queste funzioni, ci basterà semplicemente tutto ciò che è integrato in OBS. Andremo ad applicare alcuni filtri già integrati in OBS al nostro microfono che aiuteranno a migliorarne la qualità in modo deciso. Prima di proseguire con la visione del video, vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella ed attivare tutte le notifiche di modo da restare sempre aggiornati. Ricordo anche che è disponibile il mio canale Discord sul quale arriveranno notifiche di nuovi video e dirette e sul quale potremo sentirci per giocare insieme durante le dirette sul canale Viola. Link in descrizione. Bene signori, il microfono che state sentendo ora è, come sempre, il mio FIFA INK658. In questo momento il microfono che sto utilizzando è privo di filtri per questo video. Quindi andiamo a vedere assieme come poter inserire questi filtri nel nostro microfono e migliorarne l'audio. Il microfono che io ho è un microfono che già di per sé comunque ha una qualità abbastanza decente nonostante abbia un prezzo inferiore alle 100€. Però come potete sentire, come avrete avuto modo di sentire sicuramente negli scorsi video e per chi è venuto in live anche nelle live, la qualità del microfono decisamente è buona. Però si può far suonare ancora meglio. Intanto ci sono sempre dei problemi di base che incorrono quando noi andiamo a parlare nel microfono o comunque ad utilizzare il nostro microfono. Ovvero se non si applicano i filtri si possono incorrere in rumori di fondo indesiderati che non è bello sentire durante le live, rumori di tastiera e quant'altro. Vi faccio vedere ad esempio che se io adesso vado a cliccare col mouse o a scrivere con la tastiera mentre parlo o anche stando zitto, come potete vedere si sentono tutti i rumori e si sentono i clic del mouse che non è sempre una cosa buona soprattutto quando magari si sta un attimo in silenzio e si stanno cercando di sistemare delle cose o si sta scrivendo non è bello sentire il rumore di tastiera e la tastiera non è così vicina alla capsula del microfono che la capsula sta di fronte a me però capta tutti i rumori di fondo. Andiamo a vedere quindi oggi come poter appunto migliorare l'audio e eliminare anche questi rumori di fondo che possono essere magari fastidiosi durante le live. Utilizzeremo 5 filtri che vi vado a far vedere e attenzione seguite nell'ordine perché se non li mettete nell'ordine giusto rischiate che poi l'effetto non è quello che desideriamo avere. Quindi iniziamo subito e partiamo. Ovviamente otterrete un effetto migliore durante la configurazione se attiverete il monitoraggio audio. Ho fatto un video precedente su come attivare il monitoraggio audio potete attivare anche in questo caso quello rapido di OBS Studio semplicemente andando nelle impostazioni e attivando il monitoraggio del microfono tramite la funzione monitora l'audio in via all'uscita e potrete così ascoltarvi in cuffia e sentire in tempo reale i miglioramenti che voi state andando ad applicare al microfono. Fatto questo signori partiamo. Per applicare il filtro al nostro microfono ci basterà andare nelle impostazioni del nostro microfono e andare nella sezione filtri. Come potete vedere qua io ho già attivato il filtro di monitoraggio del microfono. attenzione se attivate il monitoraggio tramite il plugin audio monitor visto in precedenza il filtro di monitoraggio dovrà sempre essere l'ultimo fra tutti i filtri. Il primo filtro che noi andremo a mettere è un filtro di riduzione del rumore. andiamo a cliccare sul pulsante più e andiamo a selezionare riduzione del rumore. Possiamo nominarlo come vogliamo o lasciarlo così. Intanto questo filtro si occuperà già di ridurre un po' di rumori di fondo potete scegliere due metodi o l'RR Noise che si occupa di regolare in maniera automatica i rumori di fondo o lo SpeedX che utilizza di meno la CPU ma ha anche una bassa qualità. Io normalmente tengo l'R Noise e uso un po' di più la CPU però regola meglio l'effetto. Se fate così scegliete voi come regolarlo vi dà in decibel di livello di riduzione fate voi come meglio credete io generalmente lo tengo automatico. Quello che succede con questo filtro è che nel momento che lo attiviamo già i rumori di fondo sono ridotti come esempio i click del mouse e il rumore di tastiera. Sentite che il rumore della tastiera è molto meno marcato. Proviamo a togliere il filtro. Sentite? Sentite come è molto più acuto adesso il rumore del batterio dei tasti. Ok? Sentite? Rimetto il filtro. Vedete? Il rumore dei tasti praticamente non lo percepite. O poco e niente. Ok? Vedete? Questo è quello che succede con il filtro di riduzione del rumore. Il secondo filtro che andremo ad inserire è la sensibilità in ingresso. Quindi nuovamente clicchiamo sul più andiamo a cercare sensibilità in ingresso inseriamo il filtro e lo mettiamo sotto la riduzione del rumore. Allora questo filtro serve per appunto come dice il nome regolare la sensibilità in ingresso quindi in apertura e in chiusura dell'audio di modo che il microfono possa tra virgolette silenziarsi quando voi non state parlando e ridurre ancora ad esempio i rumori di fondo. Questo ragazzi dovete vedere voi giocando con le impostazioni la soglia di chiusura e la soglia di apertura di modo da regolare quello che per voi è meglio. In linea generale diciamo che queste sono le impostazioni di default posso andare bene un po' per tutti. Io generalmente tengo la soglia di apertura a meno 33 e la soglia di chiusura a meno 34 decibel. Ok? Cosa sono la soglia di chiusura? È la soglia di apertura. La soglia di apertura praticamente indica a quanti decibel il microfono deve iniziare a lavorare quindi a catturare la voce mentre la soglia di chiusura indica poi a quanti decibel il microfono diciamo deve silenziarsi diciamo momentaneamente quindi chiudere la cattura audio. Come potete vedere già il suono è già cambiato anche con il filtro di sensibilità di ingresso che poi ovviamente ragazzi questi valori sono quelli che poi noi troveremo qui nella nostra barra dell'audio monitor o comunque qui vedete del mixer audio. Ok? Passiamo adesso al terzo filtro. Ok? Il terzo filtro ragazzi è un compressore. Qual è la funzione del compressore? Come dice il nome appunto il compressore si occupa di comprimere l'audio per mantenerlo a livelli diciamo normali. Questo filtro funziona molto bene ad esempio quando noi stiamo parlando ad esempio mettiamo sempre il caso del scenario di gioco stiamo parlando magari siamo in enfasi ci scappa un grido un urlo insomma un suono un po' più alto un po' più acuto senza il compressore si sentirebbe molto forte nella live e l'audio rischerebbe anche di gracchiare diciamo e quindi non è un bel effetto. Il compressore si occupa ecco di regolare quindi in maniera dinamica il volume della voce quando questo passa un una certa soglia e di rendere anche la voce un po' più cristallina quindi andiamo ad inserirlo andiamo ad aggiungere il nostro filtro e selezioniamo compressore selezioniamo compressore e lo andiamo a mettere sempre sotto la sensibilità in ingresso qui questi valori normalmente vanno bene quelli di default almeno per me perché il filtro funzioni meglio diciamo bene o meglio teniamo il rapporto di compressione di 4 a 1 vado a regolarlo come potete vedere già la voce è migliorata è più compatta più compressa è a un suono già decisamente migliore come potete vedere anche i suoni i suoni di fondo ragazzi si sentono molto meno vedete adesso che se io ad esempio vado a fare sto zitto non parlo e vado a fare dei click o delle battute tastiera voi già non sentite niente quindi abbiamo rimosso già un po' di rumori di fondo e sono più appunto tutto più compresso e tutto più silenzioso ecco vedete che ovviamente sentite molto molto meno rumore i rumori di fondo sono spariti la voce è già più pulita più corposa più cristallina e abbiamo già migliorato molto con questo filtro possiamo andare a inserire anche un quarto filtro che è il guadagno in questo caso il microfono il mio microfono ha già il suo guadagno che posso regolare tramite una manopola ma nulla ci vieta eventualmente di inserire un guadagno come filtro software di cosa si occupa il guadagno il guadagno praticamente sarebbe la chiamata anche preamplificazione quindi praticamente serve per dare un po' più di volume di base al nostro microfono e alzarne leggermente la tonalità il volume più che altro quindi per microfoni magari che hanno poche regolazioni e si sentono un po' poco il guadagno aiuta ad amplificare di base il volume del microfono quindi per inserirlo andiamo a inserire anche questo ulteriore filtro clicchiamo andiamo a selezionare guadagno lo chiamiamo semplicemente guadagno lo mettiamo sempre sotto il compressore come potete vedere il mio guadagno al momento è a zero ok posso andare ad alzarlo e come potete vedere man mano che io sposto il cursore noterete già che la preamplificazione aumenta così siamo a 3 sentite già che il volume è più alto così ad esempio siamo a 5 decidete voi quanto volete amplificare o preamplificare l'umore comunque sentite che anche con questo già col guadagno a parte che vi servirà non avrete bisogno con un guadagno più alto di tenere il vostro microfono troppo vicino alla bocca perché sarà decisamente più preamplificato e quindi potrete tenerlo anche ad una distanza maggiore tenete conto anche che ovviamente maggiore il guadagno maggiore la preamplificazione maggiori saranno comunque i rumori di fondo che potrebbe catturare anche se con tutti questi filtri ragazzi diciamo che il lavoro è già è già buono è già decente possiamo inserire anche volendo un quinto effetto se vogliamo fare qualche retocco in più che è l'equalizzatore tribanda questo lo mettiamo sotto tutti gli altri effetti e di qua ragazzi possiamo giocare con le frequenze alte medie e basse per regolare la voce come a noi più piace e come potete dire sto regolando un po' gli alti e i medie soprattutto le frequenze basse e questo dovete regolarlo un po' in base alla vostra voce e otterrete così diciamo un effetto un po' più radiofonico quindi un effetto più gradevole un effetto più radiofonico come dicevo ecco questi sono tutti i filtri che noi siamo andati ad inserire tramite i filtri audio di OBS come potete sentire ragazzi la voce è decisamente cambiata ripeto il microfono che io ho già una qualità decente però se avete un microfono anche un pochino più scadente e al momento non avete dei soldi da spendere per migliorare la qualità del microfono comunque questo già vi dà una mano potrebbe potrebbe servirvi anche per migliorare banalmente il microfono della vostra cuffia integrato ok già applicando questi filtri si ottengono delle buone migliorie ma soprattutto perché è importante avere una qualità audio del microfono buona è molto importante perché se prendiamo ad esempio il caso delle live ci sono tante persone che ad esempio mandano la live ne guardano un pezzo poi magari fanno altro ma la ascoltano quindi si dice lercano la live ok quindi ovviamente se io non sto guardando ma sto ascoltando quello che voglio comunque che almeno l'audio di chi sta parlando o comunque di chi sta gestendo la live sia decente ma può servirvi anche quando state andando a ad esempio registrare dei video ovviamente avere una qualità audio come ho detto è importantissimo e ne giova solo anche per quanto riguarda la vostra professionalità ecco bene detto questo ragazzi era un tutorial semplicissimo non troppo lungo spero vi sia servito e come sempre di avervi aiutato ragazzi a migliorare l'utilizzo del vostro OBS studio vi ricordo anche che ho un canale twitch sul quale vado in live e porto gameplay generalmente single player ma può capitare anche di andare a giocare a giochi multiplayer con amici e volendo se seguite la live potete anche avere la possibilità di entrare a giocare con noi non ho una tabella purtroppo predefinita per le live su twitch ma se avete piacere a venire ad incontrarmi a seguire la live e a scambiare due chiacchiere con me cliccate sul tasto segui anche sulla piattaforma viola e vi aspetto in live se il video vi è piaciuto come al solito ragazzi lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima un saluto a tutti ciao